Non era ancora assorto il sole quando la comunità di Nuoro ha iniziato a radunarsi nei pressi della cattedrale di Santa Maria della Neve, pronta a intraprendere il tradizionale pellegrinaggio al Monte Ortobene, quella montagna che grazie ad Eledda definì il nostro cuore, anima nostra, nostro carattere, tutto ciò che vi è di grande e di piccolo, di dolce e duro e aspro e doloroso in noi. Alle sei i fedeli hanno cominciato il loro cammino, un viaggio di fede e devozione che si ripete ogni anno e che rappresenta uno dei momenti più importanti della festa del Redentore. Accompagnati da Don Alessandro Fadda, i pellegrini hanno avanzato in un'atmosfera di silenzio e raccoglimento, rotta solo dalla preghiera del Rosario e della Via Crucis. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Alle 11, raggiunta la cima, il Vescovo Monsignor Antonello Mura ha celebrato la Santa Messa, accompagnata dai canti dei corinoresi che hanno reso l'atmosfera ancora più solenne e coinvolgente. Il Redentore però viene, sì, raffigurato con una croce, ma il corpo del croce fisso non c'è più, perché il suo corpo è davvero un corpo risorto. Tra i partecipanti le autorità civili e militari, la prefetta Alessandra Nigro e la presidente della regione Alessandra Todde, in costume nuorese.